Musica Benvenuti amici telespettatori del Iceto Web News. Nel congedarci dall'edizione del mese scorso abbiamo rivolto un invito a tutti voi a trascorrere fresche serate nel nostro paese per attenuare in qualche modo la calura diurna di un'estate lunga e rovente assaporando i suoni, il folclore, la cultura e la gastronomia della nostra comunità che il calendario 2012 proponeva. Ovviamente in questo TG tratteremo di questo ma anche di altri argomenti interessanti. A distanza di un mese, quindi, ci ritroviamo per fare il punto sul ricco e intenso programma dove tutti, associazioni, privati, gruppi eccetera, hanno mostrato o cercato in qualche modo di alletare le serate e allo stesso tempo di fare promozione. Sarà stata colpa della crisi o del prolungato caldo sariano ma è da registrare un leggero calo delle presenze. Quanto alla riuscita o meno delle iniziative, ovviamente, ci asteniamo dal dare giudizi ma riteniamo sia forse opportuno per il futuro fare una più giusta e corretta programmazione. Altresì riteniamo sia anche adeguato da parte dei promotori l'invito presso questa redazione, per fini divulgativi, di materiale promozionale locale a titolo gratuito già trattato con altri enti di fuori territorio. Bene, vediamo allora quali e come si sono svolte le manifestazioni. Oltre all'incremento gastronomico con nuove sagre, vedi quella della pasta fresca e del polalo spiedo, sono state regolarmente portate a termine, sia pure con alcune varianti, quelle consolidate del maiale nero, dell'anguria, della cacciagione e delle orecchiette. E a proposito di questa, è in rete uno speciale proprio sulla 35esima sagra delle orecchiette. Non sono mancate iniziative ai fini umanitari, come il concerto per Padre Mattia e Sor Rosa, per le missioni in Africa e la solidarietà verso le popolazioni del territorio dell'Emilia, organizzato dal club UNESCO di Deliceto con altre associazioni locali. Allora, la serata del primo d'agosto, come giornata della cultura e solidarietà, nasce per soddisfare un'esigenza nuova e per dare una nuova visione di quello che può essere un modo di stare insieme, che è appunto quello di pensare un po' anche agli altri e di affrontare magari i temi della cultura in senso lato. Cultura che può essere, diciamo, tale nel senso storico della parola, può essere anche lo sport, che è un bel modo di stare insieme. E infatti questa manifestazione, anche se nasce dall'idea di una persona, è stata condivisa un po' da tutti e quindi è da considerarsi come una manifestazione di tutte le associazioni e di tutta la cittadinanza di Deliceto. Siamo sicuri che l'anno prossimo ci sarà un coinvolgimento maggiore anche di quelle poche realtà che per svariati motivi non hanno avuto la possibilità di aderire. Allora, quest'anno il tema della serata è stato rivolto appunto alle popolazioni dell'Emilia. Infatti abbiamo ospitato una manifestazione all'interno che era intitolata Un abbraccio per l'Emilia perché è stata fatta una raccolta fondi, ripeto, sempre con l'ausilio e la collaborazione e l'aiuto prezioso di tutte le associazioni di Deliceto. E' stata raccolta la somma di 1.730 euro. Quest'anno i fondi andranno indirizzati alla ristrutturazione di una scuola per bambini nel comune di San Felice sul Panaro e quindi è stato un modo bello di stare insieme quella sera pensando anche a quelli meno fortunati di noi. Un ringraziamento chiaramente va in primis all'amministrazione comunale che ha dato l'opportunità offrendo una splendida location che è quella di Corso Margherita e anche con appunto altri supporti logistici e anche economici. E poi un ringraziamento, ripeto, ringraziando finale, va a tutte le associazioni sia a quelle presenti che quelle che per motivi, per causa di forza maggiore non hanno potuto essere con noi ma che erano sicuramente col cuore e con lo spirito. La parte del Leone l'hanno fatta le serate musicali, con musica per tutti i gusti. Liscio, disco music, country e tanto folk, con esibizione sul piazzale Belvedere giorno 14 del Laboratorio Raffolk e il 18 il Gruppo Scaria. Giorno 10, spazio per il quarto anno consecutivo al premio del Liceto Cittadino dell'Anno che ha visto premiati Lucia Stefanetti per l'arte, l'US del Liceto per lo sport, Petrella Domenico per lo spettacolo, Periodico Elce per il giornalismo, Tomaioli benvenuto per lo spettacolo, per i delicietani nel mondo, Anna Landi, giustizia, Suor Angelina Chinni, missionaria, Filomena Sannella, volontariato, Mario Ieffa, spettacolo. La serata è stata allietata dalle musiche di Alca. Allora benvenuto, la tua passione per la musica, in particolare per la fisarmonica, ti sta dando molte soddisfazioni, vero? Sì. L'avresti mai immaginato? No. Che cosa vuoi fare da grande? Voglio suonare. Ti piace proprio tanto suonare quindi la fisarmonica? Sì, sì. Anche lei, come tanti compaisani, per lavoro vive a Foggia, vive comunque fuori da l'Ifficeto. Sì, sì. Però sembra non aver dimenticato comunque l'amore per il suo paese, soprattutto per questo gesto incomiabile. Sono orgogliosa del mio paese, anche se a volte vorrei che qualche cosa in più ci fosse e si facesse. Però questo è un pensiero che comunque era necessario per l'Ifficeto. Diciamo prima per me stessa, se vengo a l'Ifficeto mi succede qualche cosa. E poi per tutti gli altri, egoisticamente parlando. Egoisticamente. Però sappiamo che non è così, è stato davvero un gesto unico. Sì, penso di sì, non lo so se è unico oppure no, se qualcun altro ci avrebbe pensato oppure non ci avrebbe pensato a fare questo stesso gesto. Volendo dare un suggerimento ai suoi compaisani. Sì, la prima cosa che dico, far venire meno, per non dire annullare la gelosia, l'invidia, che purtroppo vive a Deliceto e vive forte pure. Quindi se fossimo un pochettino più uniti, più umili e più umani, coalizzandoci un pochettino molto probabilmente andremo meglio. Perché purtroppo io che vivo fuori, ho lavorato fuori in un ufficio dove arrivava tutta la provincia, ho notato quindi oltre a me di Deliceto c'era gente di Orsara, di Castelluccia, Sandago, i comuni limitrofi e vedevo che portavano molto più alta la bandiera, quindi si faceva molto di più. Sapere che quando non c'era niente e non c'era quasi nessuno, quindi quando c'era la fama, perché noi parliamo del subito dopo guerra, periodo di guerra e subito dopo guerra, c'era molto di più a Deliceto. Beh, oggi che ringraziamo di Dio, stiamo tutti quanti bene, non c'è più niente a Deliceto. L'unica cosa che è rimasto è lo struscio, tolto questo non c'è più niente e non è tutto questo. Quindi ci dovrebbe essere qualche cosa di più, qualche cosa per i giovani. I giovani si dovrebbero industriare, coalizzare e quindi formare un qualche cosa di più, non aspettare sempre la mano dal cielo. Se qualcosa si fa si cerca di demolirla, di avere invidia, di far chiudere. Purtroppo questo dispiace e io che ho lavorato fuori, quindi sono stata fuori, questo a me ha dato tanto fastidio e continuo a darmi fastidio perché vivo ancora fuori. È una sorpresa anche per me ricevere questo premio, non me l'aspettavo a questa età, diciamo. Un premio per la tua musica, per la tua passione, qual è? Il violino. Com'è nata? È nata tre anni fa quando ho cominciato a studiare violino presso la scuola media di Deliceto con il maestro Stefanelli e successivamente quest'anno con il maestro Cagliazza. Sono andato un po' in giro con il maestro Cagliazza, ho fatto vari concorsi. E questa passione proseguirà? Spero di sì. Continuerai con gli studi? Sì, sì, ho fatto l'esame al conservatorio, spero di entrare. Lo sport sta attraversando un momento di crisi, qual è la situazione a Deliceto? A Deliceto la situazione, posso dire, è ottima, nel senso che noi non abbiamo gli stessi problemi che hanno i professionisti, trattandosi di una società puramente dilettantistica, senza speculazione, senza scopo di lucro, quindi una società meramente sportiva. Beh, questo premio per la selezione mi rende molto orgoglioso, non tanto me in quanto presidente, ma mi rende orgoglioso soprattutto è un riconoscimento alle 16 persone che nel 1985, il 24 settembre del 1985, ebbero questa iniziativa e formarono questa società sportiva. Oggi, a distanza di 27 anni, questa società è fiorente, abbiamo un numero di circa 120 soci, un numero di circa 100 atleti che onorano la società Elce Deliceto e tutto avviene gratuitamente. Io ne approfitto per ringraziare soprattutto tutti i miei collaboratori, iniziando poi, andando a ritrosonare il tempo, per questa società. Voglio ringraziare tutti i presidenti che mi hanno preceduto, iniziando da Paolo Torino, che è stato il primo presidente, fino, ringraziando quindi tutti gli altri, che forse non è il caso di citarle tutti, fino ad adesso, insomma, che sono io, che da sei anni sono sulla breccia. Bene. Tra i nostri premiati abbiamo l'onore di avere anche un magistrato. Come vede Deliceto? Beh, per me Deliceto è un paese che ha tanti ricordi, perché è il paese dei miei genitori e della mia famiglia, delle mie nonne, quindi io, anche se l'ho vissuto poco, però è comunque dentro il mio cuore. Sono molto onorata oggi di essere qui. Bene. Questo premio cosa significa? Ripeto, per me, diciamo, è un onore. Sono molto contenta di essere stata invitata e di partecipare a questa manifestazione che non sapevo già da qualche anno si fa a Deliceto, infatti poi ho letto, diciamo, su un giornalino questo. Sicuramente lo conserverò molto caramente. Sora Angelina, come tanti altri compaesani, ha scelto la vita da missionaria. Cosa l'ha spinta? Già da piccola io mi sentivo di aiutare i più poveri. Di verità, con l'esempio di padre Mattia Bizzarro, sempre ho pensato a chi soffriva. Mi ero reso conto che qui vivevo bene, stavo molto bene in Italia e quindi ho pensato di andare dove si vive male, dove la gente... è necessario aiutarli. Bene. Mai nostalgia del paese? Di verità, di verità, non sempre. Qualche volta pensando un po' la mia gente, perché è verità che sono andata piccola da questo paese, però c'è la mia famiglia, quindi i paesani, qualche volta sì, penso. E questo premio cosa significa? Di verità non mi sento, diciamo, in grado di riceverlo, perché mi è piaciuto sempre lavorare nel silenzio, però se Dio mi ha dato questi doni, tengo che metterli a frutto e quindi far conoscere alla gente che c'è anche chi fa del bene e quindi dimostrare che non è solo male la vita, ma è anche bene. Bene. Sul premio ci sarà... ci è raffigurato il castello di Deliceto, un modo per tenerlo, insomma, sempre con te e per non dimenticarlo. Bene. Così lo porterò per ricordo. dove penserò nella mia preghiera e con i miei bambini, penserò dalla Columbia Deliceto. Deliceto sicuramente nel mio cuore, Deliceto mi ha dato molto anche a livello musicale, perché ci sono state delle persone che mi hanno, come dire, introdotto nella musica, nel panorama musicale e mi hanno spinto per poter fare sicuramente di più nella mia vita, nella mia carriera musicale. Come nasce questa passione? Ma questa passione nasce un po' per gioco. In realtà non mi sono avvicinato alla musica perché volevo fare il musicista, però mi sono trovato in un contesto, come dire, fertile per poter fare questa cosa e mi trovo a fare musicista come professione con grandi gratificazioni sicuramente per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi vogliono bene. Bene. E questo premio cosa ha, che ha il significato a per te? Beh, sicuramente è un premio inaspettato, però è un premio che mi fa capire quanto in realtà sono dell'Icetama, perché comunque dovunque vado conservo la mia appartenenza a questo paese e quindi questo premio è veramente qualcosa che mi lega ancora di più al paese mio di origine. Vivo a Foggia, ma in realtà, come dire, trovo sempre l'occasione per tornare qui e salutare tutte le persone care. E' orgoglioso del lavoro svolto dal suo giornale? Assolutamente sì, vedo un po' in tutta la redazione, ma anche nei collaboratori, sempre grande entusiasmo, anche perché penso che in pratica in tutte le cose che si fanno nella vita, l'entusiasmo è la cosa più importante, cioè che poi ti consente di raggiungere buoni risultati, raggiungere gli obiettivi che uno si prefigge. L'entusiasmo cresce anche in virtù del fatto che le nostre redazioni che sono sparse negli altri comuni, quindi Sant'Agata, Cadia, Bovino, in questi ultimi tempi si stanno arricchendo di nuovi elementi e i risultati sono assolutamente tangibili. Dopo dieci anni è importante, dieci anni di lavoro. Sì, guarda, io sono entrato subito, da subito, nella redazione di questo giornale perché sono stato spinto dal fatto che era un'iniziativa che partiva da un gruppo di giovani e io quando vedo i giovani che si attivano sono sempre pronto a dare loro una mano, sempre, in ogni caso, in ogni circostante. Per questa piccola comunità, questa manifestazione è importante, è giusto continuare? Ah, guarda, io stavo facendo una considerazione con gli amici con cui seguivo l'evento, veramente adesso ecco non ci dà meta per fare un complimento gratuito e un apprezzamento veramente sentito perché a parte il fatto che come si è potuto vedere questa sera una iniziativa, una manifestazione seguitissima, c'era tantissima gente ma credo nel valore di questa iniziativa, ci credo fermamente e mi auguro di tutto cuore che possa avere un seguito nei prossimi anni. Io faccio un invito al mio carissimo amico Tino Baldassarre alla Proloco, questa manifestazione è una di quelle che non deve assolutamente morire. Deve continuare, noi intanto facciamo tanti auguri di buon lavoro, di bocca al lupo per quello che avete fatto e per quello che riuscirete ancora a fare. Io gli auguri li faccio soprattutto a voi perché come tu ben sai magari le persone non lo sanno ma lo diciamo, spesso ci capita di lavorare a stretto contatto di comito, ci si aiuta gli uni con gli altri quindi la Proloco con il giornale Elce c'è questo trade union, questo qualcosa che ci unisce e che sicuramente contribuisce ad accrescere la cultura in questo paese e come si dice spesso l'unione fa la forza. Spazio anche alla fotografia, dal 12 al 17 con immagini di Deliceto e del castello, in particolare scattati dagli allunni del liceo Volta di Foggia in occasione delle giornate fai di primavera, con attigua una retrospettiva con momenti di vita. Intermezzo religioso per le festività in onore di San Rocco nei giorni 16 e 17 agosto. Non poteva mancare nel cartellone il teatro a cura dell'Associazione Teatrale Tanino che nella cornice del Castello Normanno ha presentato la calzolaia ammirevole di Garzia Lorca. Nel pieno del calendario dell'estate dell'Icetana abbiamo sentito un po' il parere della gente. Siamo più o meno a metà percorso del programma estivo, vediamo cosa ne pensano i turisti. Il signor Giovanni, avete avuto modo di vedere le attività e le manifestazioni di questo periodo? Sì, 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 abbastanza belle, originale, proprio mi è piaciuto tanto. Da dove venite? Io vengo da Seregno, Brianza. Allora, cosa le è sembrato di vedere il paese magari dopo tanto tempo? Sì, un po' di cambiamento, diciamo, c'è stato, insomma. C'è stata qualche manifestazione che l'ha colpita in modo particolare? Qui a Deliceto? Sì. Ma io è da poco che sono qua, è da venerdì. No, ma è bella anche qui. Da venerdì scorso. Diciamo, ieri sarebbe stato un bel programma, sì. C'è magari qualcosa che bisognava organizzare invece che non è stato fatto? No, penso che va tutto bene per il momento. C'è qualche manifestazione che ti ha più colpito? Direi che quella di ieri sera, che riguardava un po' il folk paesano, diciamo, che era abbastanza interessante. Sempre riguardo le manifestazioni estive, pensa che magari poteva essere organizzato qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso? Io direi che così c'è abbastanza, ce n'è un po' per tutti, diciamo. Si può fare sempre di meglio e di più, senza altro, però penso che questo sia più che sufficiente. Vediamo anche cosa ne pensano i residenti di Deliceto. Certo, non è, diciamo, un gomito facile. Io veramente sono contrario alle manifestazioni perché preferirei piuttosto una vita tranquilla. Perché in questi paesi quando si viene è per stare tranquillo e più che altro. Però è bello vedere il paese popolato, magari da tanta gente. Guarda, però c'è anche, diciamo, molta confusione, ecco. C'è poca, secondo me c'è poca organizzazione. Nel senso che ci vuole, insomma, vanno più organizzate meglio, nel senso più ordine, ecco. E poi un paese che non offre servizi igienici sufficienti, un paese che non offre parcheggi, viabilità, è anche un paese ancora pieno di fossi. Dico che fare una manifestazione e non pensare a queste cose, le stiamo sempre indietro. Insomma, le cose prioritarie sarebbe aggiustare prima queste cose, le strade, insomma, la viabilità. E poi magari, per esempio, anche fare una festa alla consolazione non si può fare perché sono 50 anni che una strada non si ripara. Ci abbiamo queste, inutile, che facciamo le feste quando non affrontiamo i problemi di base. Speriamo che venga accolto e che, diciamo, possa essere vagliato da chi ha il potere di intervenire, di sistemare queste cose. Ho notato che sono delle manifestazioni più, diciamo, caserecce, più con interventi di artisti locali, immagino, per le difficoltà note, difficoltà economiche, che in questo periodo attanagliano tutti i comuni. Quindi Deliceto non poteva, penso, sfuggire a questa situazione. E sto notando che ci si affida soprattutto ad artisti locali. Si può sempre fare di meglio, però alla fine il paese è vivo, come vedete, e quindi già che c'è tanta gente è importante. La signora Anna. Anna, cosa ne pensate della gastronomia di Deliceto? Sono innamoratissima. Io sono 40 anni che sono a Torino, ma ho continuato a cucinare al modello Delicetane e quando vengo qui ne approfitto tant'è vero che in dieci giorni sono ingrassati i quattro chili. Cioè perché mi abbuffo letteralmente, insomma. Sono piatti indimenticabili e che sono gustosi e quindi molto vari. Che lei ha importato a Torino? Ho importato a Torino. Tutti i miei amici hanno comunque mangiato le ricette di Deliceto. Quando invito della gente io cucino alla Delicetana. Cosa ne pensa delle manifestazioni che sono state organizzate? Alcune mi sono piaciute molto, altre le ho trovate un po' riduttive, un po' poche. Comunque mi è piaciuto molto quello dell'altra sera, che dei gruppi folcloristici, quello mi è piaciuto moltissimo, veramente. E altri invece un po' un dispendio di soldi, di fondi. Considerando la crisi, tutte le situazioni che ci sono adesso, insomma forse avrei condensato diversamente. Auto d'epoca, che passione per tutti i gusti. Così dopo la passerella e la curiosità delle Fiat 500, in occasione della Sagra delle Orecchiette, presso il campo sportivo, spazio ai bolidi più potenti, sabato 25, su Corso Margherita. Le stesse hanno fatto da testimonial all'inaugurazione della pavimentazione del secondo tratto di Corso Margherita. Una manifestazione, come dicevo, di macchine d'epoca che si andrà a posizionare lungo Corso Margherita e anche lungo il rione Molo e quindi ne abbiamo approfittato per fare il taglio del nastro per inaugurare questa nuova pavimentazione. Questo è un progetto di rigenerazione urbana, eseguito in 120 giorni dalla detta Cosmic di Manfredonia. Si era reso utile, prima di fare questa pavimentazione, risolvere l'annoso problema fognario, cosicché abbiamo risolto definitivamente quel problema di intasamento della fogna nera che si aveva e creava cattivo odore e anche disagio ai cittadini e ai commercianti di questa strada. È una pavimentazione che è stata fatta completamente, e sottolineo completamente perché ci sono delle notizie un po' sbagliate in merito, è stata fatta completamente con pietra lavica, quindi al 100% è stata pietra lavica e le acque meteoriche sono state convogliate al centro con la posizione delle griglie. È stato un progetto di 210.000 euro, 210.000 euro rinvenienti di 200.000 euro da un po' Feser, 10.000 euro a carico del comune. Dicevo, questa è la prima tranche di rigenerazione urbana, manca solamente come arredo urbano i cestini che verranno messi in ferro battuto. Dicevo perché questa è la prima tranche, perché la seconda tranche di rigenerazione urbana diciamo grosso modo sulle 630.000 euro sarà quella che interesserà i lavori che inizieranno a breve su Piazza Europa. Verrà uniformata anche Piazza Europa secondo la pavimentazione di Corso Regina Margherita, così da fare un unicum, un progetto abbastanza ambizioso. La pavimentazione è molto interessante, sarebbe stato anche bello continuare con quella precedente, però tenendo conto del centro storico credo che questo si intoni in maniera perfetta. Per l'inaugurazione, ogni inaugurazione è sempre un evento, forse è arrivato un po' in ritardo oppure l'amministrazione vuole aspettare che ci fossero più cittadini, con cittadini che provengono da fuori. In particolare è bello, però prima era pure bello perché c'era l'arca, c'era l'arca vicino alla Chiesa, c'era l'arca e era proprio più bello. Non vedevo l'ora, sinceramente, proprio non vedevo l'ora. Molto meglio quindi? Molto meglio, sì, sì, sì. Abbiamo avuto dei disagi, comunque speriamo che ne varsa la pena, sì. È un'ottima soluzione per il paese, anzi, mi piace molto come è venuta e una delle opere più belle di questa amministrazione che hanno fatto, perché mi ha permesso anche di lavorare meglio con il mio vocale, per fortuna. E poi ha dato anche opportunità alla gente di visitare traverse e luoghi di Deliceto che non avevano mai visto, chiaramente, i forestieri. Noi di Deliceto già li conoscevamo, però comunque è più bello perché la pavimentazione è venuta bene. È stato organizzato in Vico I Castello una mostra d'arte artigianato locale con grande successo di partecipanti e di visitatori. Presentazione a cura del Galmeri d'Aunia giovedì 23 presso la Sala Europa del Comune di Deliceto del Bando per Micro Imprese Non Agricole. Sostegno allo sviluppo e alla creazione delle imprese asse terzo PSL Meridaunia. Per maggiori informazioni visitare il sito www.meridaunia.it Il ricordo di Michele Saldutto maresciallo dei Carabinieri dell'Icetano scomparso qualche anno fa per contagio da oranio impoverito. Siamo in via sotto tenente Scarnecchia siamo qui con Pietro Saldutto figlio del maresciallo Michele Saldutto purtroppo deceduto qualche anno fa a causa delle varie missioni svolte in Kosovo e purtroppo ci ha lasciati per questo contagio da uranio impoverito. Ecco qui abbiamo il figlio il figlio Pietro se non sbaglio. Ecco ci può raccontare un po' la storia di suo padre? Sì, come più o meno annunciato da lei appunto reduce da due missioni in area balcanica quindi ex Jugoslavia e Albania in particolare ha contratto poi una leucemia mieloide acuta a seguito della quale insomma è venuto poi a mancare nel 2007 e dopo appunto come testimonianza di forte legame con le sue origini e con la sua terra natale ha voluto che diciamo le sue spoglie venissero collocate nel locale diciamo cimitero dove appunto si è ricongiunto per dire ai familiari quindi al nonno Pietro alla nonna alla famiglia diciamo Ecco, ultimamente dove ha svolto il servizio? L'ultimo incarico che aveva diciamo ricoperto per un periodo di tempo molto breve in realtà è stato come quale responsabile della sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Benevento ripeto un incarico che ha svolto per un periodo di tempo molto molto breve in quanto appunto a distanza di poco è stata diagnosticata la patologia e invece uno dell'incarico un po' più lungo in terra sannita che ha ricoperto è stato quello di comandante del nucleo operativo e radio mobile della compagnia di Cerreto Sannita dove appunto la nostra famiglia ha vissuto per molti anni Ancora prima invece è stato alla sezione anticrimine e antiterrorismo un distaccamento appunto della sezione anticrimine e antiterrorismo che collaborava negli anni di piombo anche col generale Dallacchiesa è stato lui diciamo il fondatore l'ideatore di questo nucleo e ci ha fatto parte per molti anni Sappiamo che è stato intitolato la caserma se non sbaglio C'è questa volontà questo desiderio più che altro in quanto ha svolto per tanti anni parliamo della caserma dove ha sede la compagnia dei carabinieri di Cerreto Sannita la quale caserma appunto ha visto sostanzialmente l'ingresso di mio padre nell'ambito del territorio appunto della Valle Telesina perché in concomitanza col suo inserimento in servizio è stato edificato questo stabile e siccome ad oggi non ha ancora una nomenclatura c'era questa idea diciamo che pur essendo molto voluta sappiamo spesso essere un po' contrastata da una burocrazia talvolta farraginosa Ecco, qual era il rapporto che aveva con il suo paese di origine? Ma pur essendo purtroppo distante per cause lavorative a volte anche per periodi molto lunghi però siamo sempre anche noi cresciuti con un affetto nei confronti di questo paese a cui ci siamo sentiti sempre molto legati Qui abbiamo Antonio per gli amici Tonino Chinni Ecco, sappiamo che la famiglia vuole lanciare un messaggio alla comunità delicetana e alle istituzioni locali in particolare Che cosa ci vuole dire Tonino? Eh beh io ho tanto da dire ho tanto da dire veramente perché l'affetto che mi lega al mio cognato Michele è tale tanto che ho chiesto io alla famiglia di poter avviare queste pratiche per la riconoscenza nei confronti del luogotenente Michele di avere qualcosa nel suo paese nativo del quale lui era innamorato era innamorato pazzo perché anche quando stava in Sicilia lui non vedeva l'ora di tornare di tornare a deliceto e per tranquillizzare anche la famiglia perché erano sempre preoccupati per gli eventi che c'erano in quel momento ma anche gli amici nel momento in cui Michele arrivava a deliceto gli amici lo attorniavano proprio non lo lasciavano un attimo per cui sarebbe opportuno io ripeto lo chiedo io per nome e per conto anche di tutta la famiglia che venga riconosciuto questo nostro concittadino che ha tanto amato la sua terra che gli venga riconosciuto almeno quanto meno un piccolo un piccolo pezzettino del suo terreno della sua terra intitolata a lui per il bene che lui ha fatto io mi diceva un giorno un brevissimo un amico di Cerreto che molte persone non lo rividevano come maresciallo come come luogotenente ma lo rividevano come amico come padre addirittura chiedevano dei consigli come padre anche della gente non proprio nelle condizioni per bene si rivolgevano a lui come se fosse lui il padre di tutti quanti e questo vuol dire che aveva un affetto e l'affetto che per quell'affetto che c'era noi vorremmo che a lui fosse intitolato qualcosa nel nostro paese bene penso che il messaggio è chiaro quindi l'invito è rivolto al comune di Deliceto alle associazioni affinché magari la famiglia sentendo qualche giorno fa l'amico Tonino vorrebbe dedicargli questo simpatico piccolo ma simpatico e carino angolo di via sottotenente Scarnicchia l'importante è avere un ricordo di questo nostro concittadino che purtroppo non c'è più ok io ringrazio ma ripeto ha dato tanto al nostro paese ma anche soprattutto all'Italia e lui ha servito l'Italia in un modo straordinario in un modo perfetto fino alla vita fino a dare tutta la sua vita quindi è giusto che gli venga riconosciuto qualcosa grazie Deliceto Musica Festival quattro serate dedicate al compositore delicetano Francesco De Matteo presso il Castello Normanno dal 28 al 31 con gli artisti Maria Gabriella Cianci pianista e Davide Longo basso baritono così siamo giunti alla prima edizione di Deliceto Musica Festival Francesco De Matteo questa iniziativa questo evento culturale dedicato al musicista di Deliceto Morto all'età di 22 anni dopo aver composto molte opere liriche adesso andremo a sentire cosa è stato preparato per questa edizione e noi abbiamo intervistato il presidente dell'associazione Belcando di Foggia Davide Lonco sono ben tre anni che rincorriamo questo progetto dal 2009 che c'è stata una prima presentazione a Foggia a Palazzo Dugana di questo musicista Delicetano Francesco De Matteo siamo riusciti con non pochi problemi a mettere su questo festival dedicato a questo compositore questa prima edizione prevede quattro concerti 28, 29, 30 e 31 agosto presso questa bellissima location che è il castello Normanno Svevo di Deliceto appena restituito alla città dopo lungo restauro e in questo salone bellissimo siamo riusciti a organizzare questo festival e come primo evento ci sarà questo recital cameristico tenuto da me accompagnato dal soprano pianista Maria Gabriella Cianci il secondo appuntamento ci sarà il pianista Annunzio Aprile il terzo appuntamento sarà dedicato al salotto dell'Ottocento con quattro voci maschili e l'ultima serata sarà dedicata alla grande opera con vari brani tratti dalle grandi opere verdiane pucciniane e giordaniane con molta probabilità andremo a formare una fondazione infatti lavoreremo subito appena finito questa prima edizione credo da dopo la festa patronale da ottobre inizieremo a lavorare per rendere questo festival solido continuativo e cercando risorse per presentare già l'anno prossimo l'opera completa composta da De Matteo che è il dramma eterno e con molta probabilità vedremo di farlo inserire anche nel festival di Valedidia per per questa edizione è tutto la redazione del TG Web vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a segnalare eventuali iniziative o comunicati stampa e noi saremo ben lieti di promuoverli arrivederci alle prossime news per la vista di Valedidia e vi ringrazia per la vista di Valedia